salve amici benvenuti nel mio canale youtube in questo video vi propongo l'ascolto dell'audio della prima parte dell'interrogatorio a francesco marino mannoia l'audio è la registrazione dell'udienza dell'appello max processo a cosa nostra primo troncone tenutasi a palermo venerdì 5 gennaio del 1990 francesco marino mannoia quando ero membro di cosa nostra si occupava della raffinazione della droga nella registrazione audio presente nel video mannoia parla di numerosi omicidi avvenuti in sicilia negli anni 80 e allora l'imputato marino mannoia può venire davanti alla corte ora riprendiamo con l'interrogatorio di francesco marino mannoia ieri eravamo avevamo fatto un discursus dei fatti di cui la corte si occupa di alcuni episodi più eclatanti omicidi e oggi continuiamo su questa strada in ordine alla uccisione di antonino badalamenti che era cugino di Gaetano badalamenti episodio che risale al 19 agosto del 1981 lei sa dare alla corte qualche notizia per quello che lei ha potuto sapere come è avvenuto negli altri episodi di cui lei ha parlato sono solo che aveva preso il posto di Gaetano badalamenti dopo la sua estromissione nella famiglia di cinese e aveva preso il posto di Gaetano badalamenti e i rapporti tra i due cugini appunto i rapporti tra i due cugini non erano dei migliori e i motivi della sua uccisione appunto si inquadrano in questa cosiddetta guerra di mafia però i motivi specifici e gli esecutori non li sono però i rapporti non erano dei migliori e nel senso la causa di questa diciamo loro avversione questa ostilità di questa non la conosce lei come ha saputo che i rapporti tra i due da quando ero fuori da prima del suo arresto quindi già sin da allora va bene era noto che i rapporti tra i due parenti no perché mi ricordo un episodio che ha voluto fatto una cortesia da Salvatore Inserillo per spedire 10 kg di eroine negli Stati Uniti e in quell'occasione si parlava con Salvatore Inserillo che con suo cugino nonostante prima e dopo essere messo fuori famiglia e anche prima non c'erano rapporti di grande simpatia insomma la ragione per cui non c'erano questi rapporti a prescindere da questo non ho addenciato il merito non ha saputo senta Presidente scusate se da una situazione passiamo una marcia siccome ho letto il giornale di Sicilia questa mattina la giascrizione fatta di quel mio interrogatore di ieri credo che sia fedele perché io ho fatto qualche piccola confusione in alcuni nominativi quando io mi riferivo all'iniziazione dentro il carcere di alcune persone qui vedo scritto solo Vernengo io mi riferivo a Vernengo Ruggero poi Giuseppe la Bocchiara invece la Cocchiara quanto riguarda poi ai capi di Cina della nostra famiglia io mi ripeto e nomino di nuovo Orazio Saccone invece è Edoardo Messina e quanto riguarda Arturo Vetrano invece è Salvatore Vetrano questo voleva dire volevo fare questa correzione quello che tante volte si legge nei giornali non sempre no ma credo di aver detto proprio come è scritto ah vabbè e allora meglio comunque è già registrato quello che lei sta dicendo ora riprendiamo allora riprendiamo allora il discorso nostro in relazione all'omicidio di Antonino Badalamenti lei ha detto che aveva preso il posto di Gaetano Badalamenti Gaetano Badalamenti che ruolo aveva in questo che ruolo in queste vicende Gaetano Badalamenti che ruolo Gaetano Badalamenti è stato estromesso dalla cosa nostra nel 78 questo ne avevamo anche fatto un cenno un cenno ieri e una volta estromesso però so che saltuaramente all'insaputa di tutti credo che a volte si incontravano con Stefano Badalamenti in Italia si intende? perché c'era una grande amicizia in Italia? sì o all'estero? no no in Italia in Italia si incontravano va bene si incontrava con Stefano Badalamenti questa grande amicizia costa a lei personalmente? lei era uno dei fedelissimi? io personalmente mi sono regato alcune volte a casa di Gaetano Badalamenti a casa di Gaetano Badalamenti dove? proprio a Carini dentro il paese in un posto dove in un certo periodo c'è stato l'attitante anche Angelo Rinella durante il suo periodo periodo quello legato l'apputazione per l'omicidio Benigno questo è per l'omicidio Benigno e lei dice che andava a trovare Gaetano Badalamenti a Carini per quale ragione? no accompagnavo Stefano ecco perché accompagnavo Stefano ma Gaetano Badalamenti dopo la sua posata chiamiamoli dopo che era stato allontanato quando andò via dall'Italia? e questo non lo so non hai idea? non lo so e in che periodo c'è andato? lei quando è che ebbe occasione di accompagnare Gaetano? questo è il 77 una sola volta o più volte? un paio di volte in un periodo prima della sua e quando lui fu posato lei ebbe modo di incontrarlo qualche volta? no no completamente neppure quelle volte in cui si vedeva con Stefano Bontate? no quindi i suoi rapporti con lui rapporti nel senso e nei limiti che lei ha detto risalgono al periodo anteriore al 1978 come fa a sapere che con Stefano Bontate si incontrava anche dopo che lui era stato allontanato? era Stefano stesso a dirmi ma lei non ebbe modo di vederli insieme dopo l'allontanamento? benissimo Antonino Badalamenti diciamo in questo scontro di gruppi da che parte si era messo? si era veramente schierato e schierato un po' con i chiamamole vincenti si era schierato con i vincenti in ordine ai particolari conoscevo anche Rosario Badalamenti il fratello di Rino anche lui ha avuto l'onore di Ciris anche lui una persona molto calibrata molto si volevo dirle questo ma dell'attività di Antonino Badalamenti da un canto e dei particolari che portarono all'omicidio di Antonino Badalamenti lei ha saputo qualche cosa? no di particolare no dei suoi interessi prima che lei fosse arrestato questo Antonino Badalamenti lei lo conosceva evidentemente lo conosceva molto bene e gli interessi di lui interessi in che senso? interessi nel campo bene nell'attività che lui espletava lei sa qualche cosa? lui lui badava degli animali aveva una specie di stalla però si interessava anche dei giappi di stupefacere e questo costo a lei proprio personalmente? io precedentemente avevo detto che ho portato 10 kg di eroina lo dica la corte a Angelo Angelo Antonino Pepitonale al fratello a Carini a Villa Grazia di Carini di cui era di pertenenza di Salvatore Inserillo però era una cortesia che doveva fare a Antonino Badalamenti e questo era una cortesia per Antonino Badalamenti e di altro genere di attività di Antonino Badalamenti oltre quello che lei ha detto c'era uno scambio di amicizia aveva lei conoscenza per esempio che i due cugini in un certo momento in un certo tempo avessero interessi comuni Antonino e Gaetano prima si alternavano c'erano periodi che cercavano di simpatizzare periodi che non andavano d'accordo c'è stato un periodo che Nino Badalamenti si era molto legato a Rosario Riccobono ecco i miei particolari sono questi quindi c'è stato un momento in cui Nino Badalamenti e Rosario Riccobono andavano molto legati andavano d'accordo e per esempio invece tra Gaetano Badalamenti e Rosario Riccobono beh c'è stato anche un periodo di intimità periodo di comodo periodo di? di comodo tanto che quando hanno strangolato Stefano Giaconia erano in comune accordo sia il Badalamenti con Saro Riccobono perché è stato degredato e anche la partecipazione attiva di Saro Riccobono allo strangolamento di Stefano Giaconia uomo d'onore della famiglia di Palemma che era ancora aggregato alla famiglia di Santa Maria di Gesù e poi i rapporti tra Saro Riccobono e Gaetano Badalamenti si guastarono? anche con Stefano si sono un po' allontanati tanto che aveva acquistato con Stefano Bontani si sono allontanati in che senso? tanto che aveva acquistato Saro Riccobono una villa in Valle Fiorita dove c'è proprio la villa del Brizzo di Villa Grazia l'aveva non acquistata l'aveva fatta costruire che poi questa villa gliel'ha venduta a Pietro Vernengo figuralmente risulta Ruggero Vernengo Malavilla di Pietro Vernengo è stata intestata a Ruggero Vernengo per una questione di comodo perché gli altri sono riusciti a fuggire e allora essendo lui cugino di Pietro Vernengo se l'è intestata lui e si sono un po' allontanati questi rapporti tra Stefano Bontate e Rosario Riccobono anche perché Giovanni Bontate era una persona che non andava tanto d'accordo col fratello e a volte sbarlava sia con Rosario Riccobono sia con Pippo Coloco con le persone che lui di turno cercava di rivolgere a mettere in cattiva luce il fratello quindi i rapporti tra i due fratelli erano tessi allora sì sino al punto che gli stessi per esempio non so non si scambi non è che erano tessi nel senso pubblicitario nel senso che erano di diversa natura Giovanni era molto più ambizioso ma il suo comportamento si poteva solo diciamo alludere al fattore che era fratello ma se sarebbe stato un altro semplice umodonore della famiglia non si avrebbe potuto comportare in quella maniera ma erano fratelli allora lui ne abusava di questa ma i rapporti tra i due fratelli continuavano formalmente nel senso che si scambiavano visite che uno andava a trovare l'altro sì avevano anche la proprietà in comune avevano Magliocco avevano comprato a Campobello di Mazzara avevano comprato altre proprietà quindi non è che era una cosa completamente così micidiale solo che la natura di Giovanni Bontade era una natura molto perversa una natura molto era cattiva alla sua natura specie che era molto attaccato ai denari Giovanni Bontade Giovanni Bontade anche se Stefano non era di meno ma Giovanni era molto più ambizioso ambizioso cioè nel senso di volere conseguire a qualunque costo la ricchezza l'arricchimento c'è stato anche un periodo che insieme alla nostra famiglia c'è stato un piccolo complotto il quale Giovanni Bontade avrebbe voluto prendere il posto di Stefano Bontade approfittando che Stefano Bontade era un po' in viso all'esterno in quale tempo? prima delle naturalmente delle votazioni dell'80 il periodo è iniziato dopo il 78 dopo che c'è stato quella furibotta discussione lui ha cercato di mettere avrebbe voluto prendere il posto di Stefano tanto che era stato spalleggiato da Pietro Loiaco di Giovanni Battista Pullerà ed altri della nostra famiglia ma io ero neutrale a tutto questo perché io gli dicevo sempre il mio è un voto che devo dare quando sarà lo saprò io a che darlo e queste vicende che lei sta dicendo ora sono a sua personale conoscenza certamente e il Stefano Bontade naturalmente era a conoscenza di questo disegno del fratello di tentare di prendere il suo posto si tanto che gli ha levato tutto dalle mani quanto riguarda perché all'inizio del contrabando di sigarette a Napoli come promotore sono state Giovanni Bontade insieme a Nunzo la mattina Salvatore Federico e io stesso mi sono regato a Napoli per diciamo collaborare a questa situazione di contrabando di sigarette poiché mi sono schifato del modo di condurre questa attività di contrabando schifato nel senso che da parte di altri uomini d'onore non è che stilassero sotto le regole di Cosa Nostra perché vendevano le sigarette tendendo a mercanteggiare con gli altri scafisti cioè quelli che compravano le sigarette napoletane cercando di abbassare qualche dollaro per amore di fare caricare le loro cioè vendere le loro le loro le loro sigarette le loro navi prima che la vendessero il gruppo di Nunzo la mattina Giovanni Bontade e Cosa quindi Giovanni Bontade cominciava a fare regali insieme alla famiglia chi regalava l'orologio chi comprava la macchina Pietro Lojago non ha regalato la macchina Nino Bontade ha regalato la macchina a me ha regalato un accendino d'oro a Salvatore Contorno cercava di attirare la simpatia dell'inseno della famiglia perché appunto voleva spalleggiato anche da Pierro Lojago e da Giovanni Battista Pullerà che volevano che Stefano Bontade fosse estromesso dalla famiglia di Santa Maria di Gesù e mettere lui al posto di Stefano Bontade e oltre quei soggetti che lei ora ha menzionati come simpatizzanti anzi addirittura che quando una famiglia è forte favoriggiatori di questo disegno del Giovanni Bontade altri soggetti erano accanto a Giovanni Bontade nel tentativo di portarlo al posto di Stefano Bontade Sì ho parlato già ho detto dei nomi della nostra famiglia Sì Saro Riccobono tutto quello che lui sapeva riguardante Stefano e di altre cose anche insieme alla commissione lui riferiva le cose negative a Giovanni Bontade contribuendo a mettere in cattiva luce i due fratelli fino a che Stefano Bontade ha scoperto il ruolo anche di Saro Riccobono e non c'è stata più tanta intimità tra i due tra i due e ritornando all'episodio di Antonino Badalamenti dal quale ritornando all'episodio di Antonino Badalamenti dal quale eravamo partiti oltre va bene il quello che lei aveva ha detto ora alla corte ha da aggiungere qualche altra puntualizzazione non interessa in modo particolare proprio se lei lo ha preso se ne ha sentito dato che lei era in stato di detenzione proprio in ordine all'episodio in se stesso dell'omicidio cioè no veda Presidente per noi era scontato non c'erano ulteriori commenti da fare quando una persona veniva eliminata si dava si inquattrava già del contesto criminoso però non si andava scrupolosamente a cercare di individuare chi era stato o chi non era stato come si arrivò a questa determinazione di uscire Antonino Badalamenti era in contrasto col cugino Gaetano Badalamenti si era in contrasto per un periodo si alternavano questi periodi quello che allora si diceva che certamente che Nino Badalamenti poi non era più affidabile alle persone emergenti tutto qui Presidente quando una cosa non la so io non so particolare noi non vorriamo io vi ho chiesto sempre se è a sua conoscenza diretta o se ne ha sentito parlare naturalmente in questo caso da chi ne ha sentito parlare non un sentito così e basta naturalmente nell'ambito della nostra famiglia ecco di Stefano Gallina lei ha sentito io l'ho conosciuto personalmente Faneddu io lo chiamavo Faneddu Gallina ho avuto modo di abbreviazione di Stefano Faneddu l'ho conosciuto in alcune circostanze perché facevamo un contrabbando di sigarette scaricavamo sigarette a Marina Longa di cui lui a un 5-600 metri da Marina Longa aveva uno stallone però non so se di sua proprietà perché in quel periodo era sequestrato dal tribunale questo stallone non so precisamente a chi si appartenesse uomo d'onore anch'esso di Cinisi in precedenza negli anni passati gli era stato ucciso un altro fratello di questo Stefano Gallina niente ho avuto dei contatti così della sua uscisione sa qualche particolare? no niente? no non sa regioni moventi vabbè non sa nulla è di Bruno Francesco lei ha sentito parlare l'ho conosciuto Bruno Francesco adesso non mi viene bene questo nome in mente potrebbe dirmi qualcosa di appunto coinvolto nell'omicidio di questo Stefano Gallina un piccolo imprenditore un piccolo costruttore no non mi viene niente in mente niente su Bruno Francesco va bene andiamo ad altro ecco allora ecco Mafara Francesco che c'è qualche altro ma facciamo Francesco e poi Mafara Francesco e Grado Antonino Grado Antonino a cui io mi riferisco in questo momento è il Grado Antonino del gruppo dei fratelli va bene dei fratelli Grado ma c'è un altro Antonio Antonino esatto che è un cugino quello dell'indipendente quello che è stato ucciso dentro una fratica esatto quello dell'ente teatro stiamo parlando di Nino Grado e di Mafara o Mafara non so come lo chiamavate voi altri Mafara 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 perfetto Mafara Mafara Francesco proprio così sono state uccise contemporaneamente mentre Nino Grado e Franco Mafara venivano strangolati il stesso giorno preciso veniva assassinato Giovannello Mafara dentro la perriera quindi per localizzare per puntualizzare il periodo storico il periodo storico dell'81 lei era in stato di detenzione i particolari come li ha saputi ho avuti perfettamente riferiti sia durante la mia carcerazione da Giovanni Battista Bullerà e poi l'ho preso direttamente anche da Puccio Puccio Vincenzo sì anche se Puccio Vincenzo era in carcere ma poi è vaso l'ho saputo dopo sì vorrei ricordare questo particolare che lei credo che già in merito ho parlato di questa situazione sì infatti ne ha parlato io vorrei appunto in ragione di questo discorso che lei ha fatto in precedenza 42 43 ecco dire questo ecco lei ci ha espresso in questo modo sì ricordo quello che ho detto Presidente lo leggo perché lo sentano per tali motivi lo Iacono Pietro e Pullerà Giovanni chiesero a Grado Antonino di portargli Salvatore Contorno per la sua eliminazione se l'avevo detto ieri lei ne aveva parlato l'incontro di Cefalù i contatti a Cefalù mentre invece lui diceva che non si incontrava in realtà Nino Grado non si era reso conto che la sentenza di morte era anche per lui accadde che il Grado Nino sostanzialmente luse quest'ordine assumendo che non aveva alcun contatto con il cugino cioè il contoduccio Contorno mentre invece essendo stato pedinato fu accertato che questi contatti vi erano più in particolare si apprese che il contorno Salvatore si incontrava con il grado a Cefalù in un residente di tale Costagliola venne dato dunque l'ordine di ucciderlo alle famiglie di Santa Maria di Gesù e di Ciacugli e si stabilì che se il Grado ed il Franco Mafara che camminava sempre insieme si fossero recati nel baglio di Nino Bontà avrebbero dovuto essere eliminati dalla nostra famiglia se invece si fossero recati nel baglio di Presti Filippo Salvatore quello detto Brucia Montagna sarebbero stati uccisi dalla famiglia di Ciacugli i due si recarono appunto in quest'ultimo baglio o meglio in un magazzino di pertinenza di Presti Filippo Salvatore i divi furono strangolati dal Presti Filippo Salvatore stesso da Presti Filippo Mario Presti Filippo da Grecopino da Giuseppe Lucchese da Marchese Filippo ed altri componenti della famiglia di Ciacugli mi hanno raccontato anche il particolare di cui in Mafara si è messo a piangere attribuendo anche alla sua morte al fatto della fabbrica della caccia estruzza della fabbrica di calcia estruzza ora io la Corte vorrebbe appunto sapere questo in sostanza la direzione della diciamo della decisione di sopprimere Grado Antonino era appunto volta a Grado Antonino no a tutte e due ecco siccome si dice qui parrebbe cioè poiché stavano sempre insieme sì beh se insomma insieme capitavano nel baglio bontà tant'è vero ma le ragioni dovevano riguardare entrambi tant'è vero che io ho precisato che in quel giorno per collocare il giorno storico della loro scomparsa in quel giorno hanno ucciso giovannello mafano nella perria sì sì questo va bene e allora le ragioni per le quali perché per Grado Antonino se quel problema che era stato invitato ad avvicinare il contorno a cercare di prendere contatti con il contorno lui diceva che non lo incontrava invece non era vero se non lo incontrava sulla nuova allora per raggruppare questo discorso le racconto un altro episodio che dopo la scomparsa di Mimbo Terese di Franco e dei fratelli Federico Franco Mafra incontra a Giovanni Battista Pullarà sulla circonvallazione si fermano scambiano in salute e Mafra tutto incavolato gli dice Giovanni Battista Pullarà sei un assassino sei un assassino poi c'erano dei dietroscena quanto riguarda Franco Mafra perché Franco Mafra era una persona molto legata naturalmente a suo zio rappresentante Pino Di Maggio molto legato a Antonino Grado a Stefano Bontade ed era era tutto un piano già preparato perché era molto legato con i fratelli Lupo che a sua volta poi sono state inchieste strangolate Lupo Benedetto Benedetto il fratello era lui il fratello quindi è collocato tutto in una situazione di strategia appunto per eliminare tutte quelle persone di una simpatizzante di un certo gruppo quando lei dice era molto pericoloso lasciarli in vita perché avrebbero potuto creare delle rappresaglie e unirsi con gli altri tanto che nel periodo dopo la morte di Stefano Bontade sono state per un periodo a Gebirrossa anche in casa di De Simone Antonino e in una casa di fratelli Grado pure a Gebirrossa sia il Grado mio De Simone è quello parente dei parente dei miei parenti ecco parente dei di Verlengo Peserro chiamavano quello del processo di quello che è stato qua che è stato assolto da tutti gli articoli e neanche il PM si è appellato ora mi dica una cosa lei ha fatto cenno a proposito di questo omicidio permetto che non è uomo d'onore non è uomo d'onore dunque ha fatto cenno a quell'episodio di Franco Mafara che diceva contestava il la circostanza che il dissidio per quelle fabbriche tra le altre cose gli ha detto io sto finendo mi stai ammazzando anche per questa anche per questa ragione e Nino Grado l'ha ricamato all'attenzione come nel caso di Santino in Serillo dicendoci faccia fare i quei noti ho capito ma su questo episodio circoscritto va bene a questi interessi attorno agli stabilimenti di Calcestruzzo lei può dire qualche cosa che era un fatto ricorrente che si legge sapeva che Filippo Marchese Molinciana era diciamo in società con questa fabbrica di Calcestruz non so se figurasse o meno e in questa fabbrica di Calcestruz era anche una zona operativa da dove venivano fatte spedizioni punitive per uccidere persone della zona e anche fuori zona un punto di regiovo lei a quale si riferisce in particolare quella di Marchese di Marchese Filippo e lo stabilimento di Calcestruz dei Mafarano no quella era un'attività lavorativa dei suoi fratelli sì anche del Franco del Giovanni Giuseppe Pippo Giovannello tutti i fratelli a eccezione a eccezione di quello che è morto sull'aereo che era capo di Cina prima della famiglia di Puntarai sì l'incidente di Puntarai sì ma come lei ha fatto proprio appunto riferimento a questa contestazione sia pure tra le altre ragioni tu mi stai perché c'è il problema dello stabilimento di Calcestruz praticamente una concorrenza Presidente io riferisco quello che mi hanno detto quello che è stato io volevo dirle se sapeva di altri interessi che ruotassero attorno bene a questa perché c'erano altri stabilimenti che si occupavano bene di appunto di Calcestruz e che avevano stabilito c'erano altre cose per cui è stato ucciso che il Mafra ha detto in quell'occasione c'era il problema del questa era la sua convenzione anche del Mafra perché sentendosi la coscienza pulita perché non avevano su complotto contro nessuno cioè le altre cose ha detto tu mi stai ammazzando anche per questo fattore di Calcestruz perché quello è stato un periodo che Pino Greco Scarpa e Filippo Marchese scalpitavano e gli altri Salvatore Reina e gli altri li facevano scalpitare perché gli rendeva gli faceva comodo che questi scalpitassero anche così si sarebbero bruciati loro stessi con le loro mani e poi qualcuno si sarebbe andato a lamentare per il troppo strapotere troppo scalpitare perché addirittura uccidevano anche a quello che vendeva le palenelle o a quello che vendeva anche le persone delle borgate che mai sarebbero morti per ieri lei ha fatto un cenno a questo fatto di uccisioni così nel mucchio non c'erano problemi di una vita umana quindi cioè non avevano alcun rispetto hanno ci sono i teli di fresco altre persone che questi sono gente tutti lavoratori solo perché si pensava che potevano dare appoggio a contorno fare dire allora non volevano lasciare in piedi specie o modonore che erano di una corrente simpatizzante di altre persone appunto lasciarle in vita perché un domani avrebbero potuto cercare di capovolgere la situazione non criminalmente come volevano fare sanguinalmente loro ma cercare di portare un po' di rasserenazione in seno a Cosa Nostra sempre tra virgolette in quello che competeva Cosa Nostra anche per delitte esorzioni e tutto il resto ma cercare di avere una pace maggiore ha sentito di un un zio pippo come zio 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 filippo zio filippo fasulino no fasulino sarebbe il figlio il figlio non ho capito presidente zio filippo e il figlio detto fasulino ne ha sentito parlare così in questi termini zio filippo uno un individuo detto zio filippo e un figlio di costui detto chiamato inteso fasulino non mi ricordo c'era solo uno nella nostra famiglia che è stato ucciso Salvatore Zercone che noi chiamavamo sassolino non so in che epoca lei si riferisca fasulino no fasulino va bene non mi dice niente non le dice niente passiamo ad un altro perché tanto questo ho detto abbastanza di Mafra Giovanni e lei poco anzi parlava del fatto per rimarcare il fatto temporale che del resto è storico rimarcare ha messo appena gli ho chiesto di Gerardo Antonino in Mafra Francesco lei ha subito aggiunto che lo stesso giorno venne ucciso Mafra Giovanni per riferire temporalmente il 14 ottobre dell'81 ma sulla eliminazione di Mafra Giovanni può dire qualche altro particolare oltre il mero riferimento poiché Giovannello Mafra era uomo d'onore quando avrebbe appreso la scomparsa del fratello sarebbe stata una persona pericolosa ecco questa è la ragione non so dire a volte ci sono cose che non sono tanto logiche nel comprendere ma la pure e semplice strategia che loro adottavano era questa va bene passiamo a me Mazzola ucciso il 5 ottobre dell'81 no credo no ho detto Mazzanella è sbagliato Mazzanella è un altro della nostra famiglia Emanuele Mazzola ucciso il 5 ottobre 81 credo che fosse un lontano parente di Contorno o della moglie non lo so e sui particolari questo presidente mi ripeto sempre io si inquadra sempre in quella chiamamola strategia volgarità di eliminare tutte quelle persone che per un conto per l'altro anche se non erano uomini d'onore come grado Antonino quello ucciso in quella fabbrica in quella stabilmente per dare dei dispiacere come hanno fatto con me e anche in quel momento storico preciso per eliminare qualsiasi appoggio che potesse essere utilizzato nei confronti di Contorno Salvatore ma lei non ne ha sentito parlare ne ha sentito ecco ne ha sentito parlare di che cosa presidente di questo particolari ho preso dell'uccisione ed era scontato che queste persone erano uccise per questo è il fattore non ho altri elementi da aggiungere va bene ne ha sentito parlare e da chi potrebbe dire come ne potrei elencare tante e tante ma dentro il caccere da persone della nostra famiglia poi io c'è stato un periodo che siamo stati rinchiusi a eccezione di mio padre eravamo in dieci nella settima sezione e ancora prima eravamo alla nona sezione ed eravamo tutti uomini d'onore a cominciare da Pietro Senapa a cominciare da Franco Spataro che sarebbe Giuseppe Francesco Spataro mi raccontavano una miriade di uccisioni di cose fatte che a me non interessavano non occultavano nella mia mente per poterli riferire un domani perché per me erano cose scontate e chiare basta anche come un episodio che mi raccontavano quello che hanno ucciso un dipendente uno dei soci della ditta partanna Bibide Cassate di Conte Federico che credo che sarebbe Gambino aveva ucciso a bordo di una 126 che è stato il Senapa insieme a Scarpe ed altro ma non ci tenevo attenzione non ci facevo caso di puntualizzare certe cose va bene di Mandala Pietro si ha conosciuto Mandala Pietro e che cosa mi può dire del fatto dell'episodio del delitto che lo riguarda siamo sempre là perché era parente della moglie e parente sempre di Toduccio Contorno e di cui Toduccio Contorno si avrebbe potuto servire per un eventuale ritorzione sugli altri tanto che camminava armato in quel periodo volevano anche uccidere Francesco Urso il genero di Pietro Vernengo perché ancora non erano sposati né fidanzati babbiavano così nel gergo quando si è presa questa notizia perché in quel periodo mia sorella era innamorata del figlio di del figlio di Fresco uno dei fratelli uccise a Conte Federico questo ragazzo è stato avvertito dalle poco fa l'abbiamo detto come si chiama il mandalà dicendoci è meglio che te ne vai di Palermo perché altrimenti è troppo tardi per te e per Franco Urso tanto che io ero nella stanza con Nino Vernengo un dottore sarebbe mio parente zio di mia moglie gli riferisco a questo episodio lui si dà una mano in fronte dicendo porca puttana questo è fidanzato vuola la figlia di Pietro Vernengo Pietro Vernengo dopo poco tempo è uscito dal caccio di Reggio Calabria si è preso la responsabilità nei confronti di questo Urso anche se non aveva nessun ruolo e nessuna responsabilità questo Francesco Urso nei confronti né di contorno di chi sia ma loro avrebbero voluto anche eliminare questo Urso perché Sturso si frequentava con il figlio del Defresco e se la faceva in quella zona perché abitante alla vicina ecco volevano radere al suolo tutte quelle persone che potevano avere contatto o con contorno o con amici o con parenti di contorno questo era il disegno di Sarai questo ragazzo figlio del Defresco poi ha fatto per venire un bigliettino a mia sorella dicendo senti io me ne vado perché ho paura ed è emigrato e se ne è andato e si è salvato senta Rugnetta Antonino lei l'ha conosciuto Rugnetta Antonino mi può parlare di Rugnetta Antonino oltre a quello che ha detto c'è stato un periodo che con Rugnetta Antonino io e Mafra lavoravamo con le sigarette e le sigarette che noi sbarcavamo anche quelle di Marina Longa le davamo al Rugnetta e al Piacio Sorbi quello che si è impeccato a Lucardone e loro provvedevano alla vendita di queste sigarette e anche Rugnetta ha lavorato per conto di Contorno a vendere le sigarette quindi si conoscevano benissimo Contorno conosceva benissimo il Rugnetta il Rugnetta è stato prelevato appunto per sapere se fosse a conoscenza dove il Contorno fosse rinchiuso o se fosse rifugiato ciò mi è stato confermato è detto da Piacio Vernengo di cui era partecipe allo strangolamento di questo Rugnetta e il quale il Rugnetta si rivolgeva proprio a lui perché era l'unico a cui aveva una particolare confidenza dicendo di volere un po' di tempo che poteva cercare di riuscire perché questa particolare confidenza? ecco volevano radere al suolo tutte quelle persone che potevano avere contatto o con Contorno o con amici o con parenti di Contorno questo era il disegno di Sarelli questo ragazzo figlio del Defresco poi ha fatto pervenire un bigliettino a mia sorella dicendo senti io me ne vado perché ho paura ed è emigrato e se n'è andato e si è salvato senta Rugnetta Antonino lei l'ha conosciuto Rugnetta Antonino? mi può parlare di Rugnetta Antonino oltre a quello che ha detto c'è stato un periodo che con Rugnetta Antonino io e Mafra lavoravamo con le sigarette e le sigarette che noi sbarcavamo anche quelle di Marina Longa le davamo al Rugnetta e al Pietro Sorbi quello che si è impeccato allo Cerdone e loro provvedevano alla vendita di queste sigarette e anche Rugnetta ha lavorato per conto di contorno a vendere le sigarette quindi si conoscevano benissimo il contorno conosceva benissimo il Rugnetta il Rugnetta è stato prelevato appunto per sapere se fosse a conoscenza dove il contorno fosse rinchiuso o se fosse rifugiato ciò mi è stato confermato e detto da Pietro Bernengo di cui era partecipo allo strangolamento di questo Rugnetta e il quale il Rugnetta si rivolgeva proprio a lui perché era l'unico a cui aveva una particolare confidenza dicendo di volere un po' di tempo che poteva cercare di riuscire perché questa particolare confidenza? perché era scaturita sempre nel campo di sigarette contrabbando e cose quindi c'era già una conoscenza consolidata mentre con Filippo Marchese con Scarpa e con gli altri non aveva confidenza questo ragazzo anche se se la faceva sempre in un bar vicino ai Bagni Verzi ma non conosceva non aveva confidenza né con Filippo Marchese né con gli altri e quindi lei i particolari della soppressione di Rugnetta Antonino li ha presi dal cioè quando il Sirena ha fatto queste dichiarazioni qui commentando con Pietro Bernengo ha detto figlio di Bottana la verità sta dicendo su tutto il riguardo non avevamo niente a che tenere celato e le ragioni precise le ragioni più perché si arrivò alla soppressione va bene delle ma le ragioni sono quelle che ha d'eccezione si dice che in effetti Rugnetta non sapeva nulla dei movimenti di contorno mi pare che così lei ha dichiarato che ecco presidente la persona con cui lei dice ma in effetti quel Rugnetta non sapeva nulla dei movimenti di contorno per una mente onesta umana e dignitosa è normale accettare che se una persona non sa niente si fa andare via ma per regola di cosa nostra quando una persona viene portata in un luogo fatta sedere nella sedia interrogata e mettergli la corda al collo per cercare di attingere delle notizie non è mai successo ad eccezione di quello che mi riguarda personalmente della famiglia di Santa Maria di Gesù ad eccezione di Carmelo risicato di cui lei ha parlato quindi il Rugnetta se sapeva diceva e sarebbe stato sciangolato non ha saputo non ha detto e è stato sciangolato non se ne sarebbe andato lo stesso la sentenza di morte sarebbe stata sempre anche se non aveva nessuna responsabilità la conoscenza la conoscenza di io neanch'io lo sento è una ripetizione di quello che abbiamo detto ora e che lei aveva pure accennato anche se non sapeva nulla lei ha fatto il doppio esempio avesse saputo non avesse saputo la sentenza sarebbe stata sempre di morte abbiamo un altro episodio specifico dove ho parlato quelle due persone che sono state messe in un portabagaglio buttate vicino alle motelagie che avevano rubato a casa di un medico scusate un attimo un medico per favore chi è che sta male allora per favore il medico o l'infermiere in aula che è quel soggetto che già altre volte sta venendo un momento di sospensione si va bene comunque conviene farlo controllare lo stesso sono e noi dovessi andare avanti e cosciente dovessi andare avanti perché il medico lo controlla si ma comunque vorrei che questi medici vissero immediatamente hanno la valluanza hanno tutto poi vende ci stanno tre ore tra che si ripetono no vabbè ma sai siccome sono attacchi che si possono ripetere uno e il medico c'è già o no no ecco sta venendo la gente di Femmire va di Femmire grazie 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 ma gente infermiere c'è il c'è il medico anche ah c'è anche il medico non l'avevo visto chi è Zanca 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 ci soffre da una vita poi dopo cinque minuti gli passa ah c'è la dottoressa vabbè quindi allora non è uomo d'onore a proposito allora possiamo possiamo continuare come ha detto ha una vita che ci soffre sì lei ha detto non è un uomo d'onore ha detto così va bene l'unico uomo d'onore della sua famiglia è Carmelo Zanca l'unico degli Zanca l'unico uomo d'onore è Carmelo tutti gli altri non sono uomo Onofrio e Giovanni e Pietro Zanca non sono uomo d'onore lei riconosce bene personalmente comunque poi parleremo uno per uno certo va bene ricordato che spontaneamente ha detto abbiamo chiarito secondo il discorso che fa lui che non è che l'imputato questo non è uomo d'onore va bene riprendiamo allora con il nostro discorso allora dove eravamo sì passiamo all'altro quel Salvatore di Gregorio sì Salvatore di Gregorio che era nella parentela sì quello che è stato arrestato con Michele Mondino perfettamente sì che poi ha fatto dell'angolo di via Roma che poi ha fatto la dichiarazione sì è stato strangolato questo ragazzo questo Salvatore le ragioni le ragioni perché appunto si era comportato male verbalmente dicendo che in un certo territorio apparteneva a Michele Greco in un altro a Stefano Bontade quindi dopo la sua scarcerazione è stato strangolato lei lo ha conosciuto personalmente che individuo era questo non era un donore un ragazzo un rapinatore era un rapinatore sì il della sua soppressione questo si era un rapinatore sì il della sua soppressione questo si è sentito dire che è stato attribuito alla famiglia di Ciaculli perché appunto intaccava in quel periodo si è sentito dire questo nome sì ma non particolari non sono particolari precisi non mi sono interessato perché se chiedevo lo sapevo ma non mi sono interessato non si è interessato va bene andiamo avanti teresi teresi francesco paolo teresi credo che già ne ho parlato di questo lei ne ha parlato anche il discorso è fedelmente per come è scritto lì quindi per quanto riguarda teresi francesco paolo si riporta fedelmente a quello che ha già confermato al contenuto della dichiarazione che già lei ha confermato parola per parola non ha da dire altri particolari racconto completo se vuole che lo ripeta no dato che lei si riporta integralmente la dichiarazione che lei già ha confermato in tutta la sua interezza quindi possiamo passare avanti come Michele Ienna sarebbe carnezieri attiviamo il microfono del consigliere relatore le domande che le faccio io quindi se il suggerimento proviene io ripeto ad alta voce quindi non c'è una duplicità e del resto si vede anche dalle risposte che fornisce l'imputato d'altra parte compete a me porre le domande quindi non c'è nessuna ma comunque dico dato che i microfoni ci sono li facciamo funzionare e allora per questo Ienna Michele sarebbe il fratello del gigante noi lo chiamavamo il carneziere lei l'ha conosciuto così di vista conoscevo suo fratello che noi chiamavamo gigante sarebbe credo Mimmo non mi ricordo adesso che era in società il frigorifero della carne con Salvatore Contorno il fratello morto per causa naturale mentre questo Michele Ienna è stato assassinato appunto perché si diceva nell'ambiente che aveva dato ospitalità a Salvatore Contorno perché loro avevano una piccola stalla attigua proprio a Chiavelli dove Contorno per il passato custodiva alcune cabbe di bestiame e è stato assassinato per questo va bene credo che possiamo passare avanti vediamo l'ordine cronologico di Antonino abbiamo parlato Boris Giuliani Teresi Sorbaccio Vino Cristorica Di Fazio Tagliaviglio Cino Teresi Francesco di l'altro l'ordine cronologico se c'è qualche cosa poi ci ritorniamo in ordine cronologico ah vuoi sapere cosa viene Antonino Quino grado l'altro non lo conoscevo io non sa nulla quindi dei fatti che riguardano è un fatto attribuibile alla famiglia di Ciafulli ma non so niente di specifico beh attribuibile è una parola molto cioè attribuibile perché era scontato che erano state ma lei non sa nulla non so niente di particolari non sa niente va bene di particolari che subvence anche questo in quel contesto di campagna esterminatore va bene comunque particolari lei non le conosce va bene andiamo avanti in ordine cronologico lei poc'anzi ha fatto un riferimento indiretto a quei due fratelli di fresco fratelli? di fresco mi pare che ne ha parlato sì ecco uno è Francesco mi sembra uno è Ciccio Nasca Francesco e l'altro Giovanni Giovanni gli ha conosciuti? io no non li conoscerà uno è Francesco Nasca era una volta in società col padre di Carlo Greco adesso membro della nostra famiglia però non li ho frequentati mai non sa nulla dei particolari che riguardano i particolari che riguardano questi sono stati uccisi subito dopo l'uccisione di Michele Graviano e i particolari ne ha saputi? i particolari per noi erano scontati che queste persone erano state uccise appunto nei confronti di Salvatore comunque sugli particolari non c'è niente Presidente quando saprò un particolare io stesso gli dirò su questo e questo come lei ieri diceva un po' che di stimolare un po' il suo ricordo allora restiamo che alle mie domande lei risponde con interezza di particolari non è bene e allora passiamo ad un altro episodio che è questo Ignazio D'Agostino Ignazio D'Agostino lei l'ha conosciuto? Ignazio? cioè sarebbe il padre di Rosario D'Agostino e lei l'ha conosciuto? non ci ho avuto confidenza non ha avuto confidenza quindi gli stia particolari conoscevo suo figlio Rosario D'Agostino che in carcere gli avevano promesso che aveva salva la vita invece appena uscito che andava a lavorare normalmente povero ragazzo andava a lavorare l'hanno massacrato Rosario quindi in carcere è stato avvicinato come se vabbè non ti preoccupare perché non c'è niente e invece quando è uscito l'hanno ammazzato vabbè comunque su Ignazio D'Agostino non mi sa dire nulla non sa nulla vabbè andiamo ad altro Pietro Marchese Pietro Marchese Pietro Marchese Pietro Romano e l'altro non si chiama Antonino Spica lei ha conosciuto Antonino Spica Pietro Romano e Pietro Marchese Pietro Marchese e gli altri due adesso non me le ricordo Pietro Spica Antonio Spica non l'ha conosciuto non lo ricorda adesso non lo ricordo Pietro Marchese sì molto bene molto bene in che senso molto bene come uovo d'onore e come amico e mi può dire qualche cosa di questo Pietro Marchese e dei rapporti con la sua stessa famiglia di sangue rapporti in che senso rapporti in generale rapporti d'affari rapporti sentimentali relazioni va bene di contrasti beh non è che condividevano tanta simpatia con Filippo Marchese Pietro Marchese con Filippo Marchese lei dice qualche cosa al riguardo circa la soppressione questa famiglia è stata per lunghissimi anni sciolta questa di corso dei mille e Filippo Marchese aspirava sempre a divenirne il rappresentante mentre Stefano Bontade e altre persone non avrebbero mai Bontade e altre persone non avrebbero mai voluto che lui divenisse rappresentante di questa famiglia perché era un un pazzoide completamente Filippo Marchese era cognato mi sembra di di Pietro credo di sì di Pietro Marchese e i rapporti tra i due non erano dei migliori perché poi Pietro Marchese che era si era molto legato anche con Michele Greco aspiravano sempre un domani che questa famiglia si ripostituisse a divenirne il rappresentante non sapevano prima chi doveva fare il rappresentante di questa famiglia e c'era anche Salvatore Rinella che aspirava tramite Stefano bontà di Salvatore Rinserillo un domani potere essere il rappresentante di questa famiglia quindi il rapporto non lo so cose precise che posso dirle semplicemente che di quel che mi risulta Filippo Marchese non era l'occorrenza perché gli hanno massacrato questo lei lo ha detto con una proposizione che Filippo Marchese era all'oscuro di questo dell'episodio che diciamo riguarda il Pietro Marchese quando andò via con Giovannello greco lei ha saputo qualche cosa del loro poi arresto fuori Italia ho saputo che stavano per andare via e sono state bloccate la frontiera e sono state arrestate e ha saputo dove si sarebbero recati dove sarebbero dovuti dove dove essi volevano andare non lo so Presidente non ha sentito di questo ma degli altri due nominativi naturalmente si volevano un po' allontanare per stare a guardare e eventualmente poter organizzarsi di conseguenza ma non so di preciso il marchese il marchese Pietro lo ha conosciuto bene come il marchese Pietro lo ha conosciuto bene anche gli altri familiari anche Giovannello greco perché poi sono diventati cognati si sono diventati cognati ma anche gli altri familiari del marchese Pietro per esempio gli altri fratelli Gregorio ho conosciuto Piddo che sarebbe Giuseppe Pidale e Pato che era uomo d'onore mentre Gregorio non era uomo d'onore quello che hanno ammazzato a questa età c'è nel bellino dove c'era Filippo Marchese la moglie di Filippo Marchese e in relazione a questi episodi proprio di Casteldaccia e a queste eliminazioni lei ora ha ricordato quella di Marchese Gregorio sì c'è stato anche un altro Marchese Gregorio uno zio mi pare uno più anziano paralitico addirittura se non prendo errore e mica cosa in relazione non vorrei sbagliare perché adesso sono passate tanti anni la domanda è diretta per ora ad appurare un altro particolare in relazione a questi fatti che avvennero a Casteldaccia che si aprirono anzi a Casteldaccia proprio con l'accessione di Gregorio Marchese esatto si è parlato anche di a proposito di quella dislocazione geografica Casteldaccia Bagheria di triangolo della morte ha sentito di questo triangolo della morte certamente ho sentito dei delitti che venivano commessi sì ma questa denominazione di triangolo della morte ma poi i giornalisti o la stampa da le loro divulgano le notizie in un modo come più gli piace quindi di angolo della morte non so in effetti avvenivano degli afferrati delitti in quelle in quelle zone quindi loro l'hanno denominato di angolo della morte perché il problema è sapere perché questi delitti che diciamo in questo triangolo della morte io le posso dire solo una cosa di tutti quelli che sono stati uccisi o strangolati anche di quelli che ha detto Sinagra non ce n'è stato uno che abbia detto siamo a conoscenza dell'omicidio di Gregorio Marchese è stata tutta una strategia per fare uscire pazze e fare impazzire Filippo Marchese perché Pino Greco gli diceva a questi parenti te li ammazzare tutti perché cercava in tutti i modi di arrivare a Giovannello Greco e a Spitalere tramite anche Di Gregorio sarebbe Di Gregorio Marchese quindi questa morte di Di Gregorio è rimasta un segreto un mistero nel senso che tutti quelli che hanno strangolato o che hanno eliminato nessuno sapeva un cavolo è stata nostra supposizione cosa è anche particolarmente mia che è stata una cosa commessa da Pino Greco scarpa all'insaputa di Filippo Marchese e tutti gli altri e che non c'è stata conferma di nessuno che abbia saputo dire le cause o l'eliminazione che era stato di Gregorio Marchese quindi una supposizione lei dice per quanto riguarda vabbè è molto confuso su questo punto vediamo chi viene in ordine cronologico si inquadra nel contesto dell'uscisione dell'imposto di Pietro Loial per fare capire che erano i perdenti scappati per fare vedere che facevano qualche cosa Francesco Mandala Francesco Mandala ne ha parlato con Pietro Mandala uno dei tanti del gruppo di Contorno anche anche per Francesco Mandala Francesco Mandala capiamo Pietro Mandala e Francesco Mandala lo stesso il padre di tutto in questo contesto si inquadra comunque particolari possiamo arrivare anche a recente quei poveri muratori che si recavano dal lavoro alla casa che sono stati assassinati ben già andavano a casa possiamo parlare anche dei parenti dei cognati di Contorno di cui è stato mio fratello l'autore semplice fatto perché erano parenti dei Contorni di Salvatore Spitalesi mi ha parlato Corsino tutti o totò tutti o totò e Salvatore Corsino l'ha conosciuto lei Salvatore Corsino credo che sia lo zio che ha dato ospitalità un'altra cosa veramente dignitosa che ha dato ospitalità alla moglie incinta di otto o sette o otto mesi della moglie di Contorno Mela Carmela solo per questo è stato assassinato non vi è altro accettare questa cruda verità o rinnegarla completamente questo è quanto posso dire io ma lei può dirlo in base a che cosa in base particolarmente per Salvatore Corsino alla certezza che si diceva insieme al nostro ambiente che era stato eliminato per questi motivi si diceva così lei come ha fatto come ha potuto notare io non ho nominato l'uccisione dei miei cari se qualcuno riesce a collocare qualcosa di giustificato di significativo allora possiamo noi dedurre qualcosa di logico l'uccisione di? dei miei familiari non voglio toccare questo tasto ma se c'è qualcuno che può inquadrare in una logica non rientra no ma facevo un esempio per dire che molte cose appaiono fantascientifiche o strane nella collocazione di fatti o moventi o questo o quell'altro ma io vi dico sono inquadrati in quell'ottica questo è quello che vi dico io anche se non sono scienze dirette perché le ho commessi io ma per quello che ho saputo è quello che ho sentito dire ed è niente perché se chiedevo avevo fiducia di poter sapere ma non mi interessava chiedere perché ero nauseato di quello che succedeva quindi non ha chiesto di questo no presidente non ha chiesto per Salvatore Greco Giacomo Scinà e Vincenzo Pesco sono persone che a lei sono le ripeto uno per uno Salvatore Greco sarebbe il padre di Giovanello Greco che hanno fatto l'assalto Scinà e Pesco l'assalto in casa l'hanno fatto a Salvatore Greco non era un uomo d'onore era un lavoratore sul senso della parola poi credo il Scinà credo che sia quello che veniva con la verdura con le zucchine dalla campagna a lavorare quindi pericoloso criminale e sono stato ucciso e Pesco Pesco credo che sia quello di portare termine davanti al bigliardo perché era parente di Giovanello Greco quindi sempre quella stessa strategia di cui lei parlava per i parenti di Totuccio Contorno il suocero di Giovanello Greco era compare di mio zio Costantino Antonino una perla di galantuomo lavoratore dignitoso lui e suo figlio studenti li hanno massacrati perché erano suocero e cognato di Giovanello Greco non vi è nessun particolare o movente o giustificazione va bene non abbiamo capito ma andiamo avanti i figli di Buscetta che cosa c'entra Buscetta in tutta questa faccenda i figli di Buscetta la scomparsa dei figli lei ha conosciuto Buscetta un paio di volte l'ha visto sì da Magliocco durante la sua latetanza al fondo Magliocco i figli di Buscetta lei ha conosciuto Antonino Antonino soltanto a che soggetto in carcere non era uomo d'onore non era uomo d'onore ma era un ragazzo così un mezzo ruffardino cioè uomo da poco no nel senso che faceva anche qualche piccolo assegno diciamo a vuoto a vuoto ma un ragazzo che non aveva niente a che vedere con l'ambiente di Cosa Nostra ha completamente niente da vedere non era uomo d'onore e mi dica un po' benedetto e Benedetto non lo conoscevo non lo conosceva ma sulla soppressione o comunque la scomparsa di questi due soggetti che cosa mi può dire no niente ho preso semplicemente la scomparsa un'ondizia storica solo e nient'altro che questo posso dire che in ripercussione all'attentato di Pino Greco Scarper nel Natale credo dell'82 si è scatenata poi una vendetta contro Vincenzo Buscetta che conoscevo il vetraio il vetraio il figlio che era un uomo pure lui benedetto chiamiamolo omosessuale un povero ragazzo il figlio di questo il figlio di il genero della figlia di Tommaso Buscetta che era un lavoratore quello di Genova nella pizzeria ecco è stata una vendetta scaturita ma lei il Genova lo conosceva? no non lo conosceva e la figlia di Tommaso Buscetta la figlia l'ho conosciuta tanti anni fa in un'occasione sono andato in un loro vellino sotto Monte Pellegrino in una circostanza che avevano chiesto dei soldi alla fabbrica di Vincenzo Buscetta mentre ancora Massino era detenuto avevano andato a chiedere questa cortesia erano dei sciacalli che facevano delle telefonate l'ho conosciuta solo in quell'occasione quando degli anni settanta quindi il marito Genova se non vi lo guardi no non me lo ricordo sicuramente l'avrò visto qualche volta ma non me lo ricordo non lo ricordo quei due parenti del Genova quei due d'amico che si trovarono nella pizzeria non ricordo di conoscerli non ricordo va bene di conoscerli quindi tutto quello che sa su questi episodi è quello che ci ha detto ora al di là di questo non sa andare anche perché Pino Greco Scarpa dopo l'attentato è stato ospite della nostra famiglia Santa Maria di Gesù in casa di Ignazio Pullarà che nel frattempo aveva assunto il ruolo di regente dopo l'arresto di Pierluo Iacoli vediamo un po' su questo attentato lei che cosa mi può dire si è saputo che era opera di persone scappate perdenti ma chi non lo so si è saputo cioè correva correva questa voce si che lui si è salvato miracolosamente perché la macchina è stata tutta sforacchiata quindi si diceva che fossero persone perdenti o scappati naturalmente persone contro a lui si vuole dire dopo l'attentato dove si rifugiò di nuovo lo vuole ripetere in casa insieme con Ignazio Pullarà saprei indicare il posto so dove è il posto vicino alla centrale Enel di Chiavelli la centrale Enel di Chiavelli e vi rimase per tempo rimase per alcuni giorni poi si cercava un posto più sicuro tanto che avevano richiesto la loro e la sua collaborazione a Saccone sarebbe Orazio Saccone Michele quello che lei chiamava Michele non si è tanto messo a disposizione cercando di eludere questa cosa che poi se la sono conservata anche perché era molto intimo con Stefano e poi si doveva eliminare non si è eliminato perché è morto di causa naturale certo Giuseppe Romano detto l'americano lo conosce non credo di ricordarlo Giuseppe Romano l'americano non lo non lo ricorda che l'abbia conosciuto ma non lo ricorda va bene andiamo andiamo ad un altro episodio e Gaspare Michele Ficano chi sono Gaspare Ficano e Michele Ficano credo che già l'ho detto si mi pare che proprio erano i parenti un certo Paolo Amodeo Paolo Amodeo si Paolo Amodeo non non lo ricordo Giovanni Amodeo per ora non mi viene niente va bene particolari quindi niente questo è stato detto l'elettricista Lillo una femminuccia una femminuccia lo precisi meglio la corte per evitare equivoci nel senso che era un uomo completamente quello che si dice una dama una dama una persona gentile cioè gentile perché dicendo una femminuccia appunto una persona gentile gentile educatissima lei lo conosceva Bellini personalmente perché a volte andavo con Nino Grado con Franco Mafari in casa di Rosetta la moglie che era parente appunto questa poveraccia dei Grado e di questo Bellini Calogero che cosa mi può dire come come fatto mi ripeto sempre sempre sullo stesso contesto va bene lo stesso contesto quindi particolari non ne può dare niente in ordine alla soppressione Sorcinino Sorcinino e Carlo e poi va bene Francesco Sorcinino Sorcicarlo il figlio gli esecutori non sono imputati in questo processo lei ha dato qualche particolare mi riporta si riporta alla dichiarazione già confermata per quanto riguarda è anche scritto lì che Giovanni Pullarai incaricato da Sabato Lerreina si è recato per farlo si riporta a quello che ha dichiarato e che lei ha ripetutamente confermato per intero e per quanto riguarda Sorci Francesco sarebbe l'episodio di giugno perché Sorcinino e Carlo e Aprile Sorci Francesco già era in viso da tantissimi anni perché prima di essere capomandamento la nostra famiglia Stefano Bontade lo era Nino Sorci Urricco prima di Nino Sorci Urricco lo era Ciccio Sorci questo di cui ha parlato lei e siccome c'erano dei contrasti a tempo della Barbet e del Cavataio della prima guerra di mafia che lui si era schierato cioè era un po' diciamo nei confronti di Michele Cavataio manteneva una certa intimità mentre da quasi tutto il gruppo diciamo di Stefano Bontade di Salvatore Rina e degli altri su Cavataio era una persona che andava completamente eliminata mentre lui già teneva qualche ancora qualche rapporto sottostava a qualche a qualche regola del Cavataio per il passato vecchia rucera Dei rapporti economici che riguardavano questi Sorci interessi che si proiettavano in società e ti sento lei sa qualche cosa? No società di che genere? Ma è così per esempio lui era un proprietario terriero oltre a questo lui stava costruendo delle ville in via Valle Fiorita dove mi ha venduto un terreno anche a me in questa zona E questo chi esattamente? Nino Sorci che credo che in quel periodo fosse in società con Rosario Marchese non so che tipo di società ma comunque hanno lottizzato la zona anche lì dove c'è la casa anche Rosario Marchese Valle Fiorita E non c'è altro di questo? Va bene Mi pare che il resto è Silvio Badalamenti Lei ha conosciuto Silvio Badalamenti? Sarebbe nipote di Tarino Badalamenti Esattamente Adesso non ricordo Era un impiegato Un impiegato sì che è stato assassinato credo un paio d'anni fa Beh insomma qualche cosa di più Qualche pompetere Qualche cosa Comunque Non so dire niente di particolare Di Silvio Badalamenti non sa nulla Prendiamo il Che vedete alla chiesa vero? Boris Giuliano abbiamo sostanzialmente l'opera L'omicidio che riguarda il compianto Professor Giacchone Lei ha avuto saputo qualche cosa è in grado di dire alla corte qualche cosa Giacchone Il medico legale Sì se l'ho capito Presidente Giacchone è stato un omicidio deliberato dalla commissione sulla spinta infocata di Filippo Marchese ma non di sua spontanea iniziativa Come? Non di sua spontanea iniziativa? Cioè nel senso che lui ha stimolato la spinta che fosse decredato questo omicidio perché lui non faceva altro che le sue funzioni di uomo di Stato e di uomo regolare per manomettere quella perizia E lei da chi ha preso questo? In senso a Cosa Nostra Presidente non ero fuori non ero partecipe e non ero lì Sì e io infatti gli ho chiesto da chi ha preso perché so benissimo che lei fino al 12 maggio dell'83 era in carcere ma siccome lei più volte si è riferita a notizie apprese durante la sua detenzione io le sto chiedendo appunto se avesse per caso saputo qualcosa e da chi in questo L'ho preso da molti uomini d'onore anche da Salvatore Montalto da Ignazio Pullarà e da Giovanni Battista Pullarà da altre persone e adesso non vado a registrare il particolare preciso da chi e me lo appuntavo e me lo scrivevo era scontato che il discorso era questo ma sui particolari non ha saputo nulla va bene andiamo Ferlito lei ne ha parlato del resto il nome lo sulegge nelle sue dichiarazioni di Alfio Ferlito si l'ho conosciuto ma dell'omicidio di Alfio Ferlito dell'omicidio so che c'è stata una collaborazione con alcune catanesi però un ruolo nel senso che hanno saputo portare le battute e esportamente precise e l'omicidio è stato commesso sul territorio qua e c'è con l'azione adesso non mi ricordo preciso dove è stato ma beh comunque è un fatto storico il posto è quello e non può essere messo in discussione ma lei diceva di una collaborazione un intervento va bene di catanesi si che è quello che si è sentito di catanesi al contrario del delitto della chiesa in cui non ho mai saputo della partecipazione di catanesi cioè mentre per il delitto di alzio l'omicidio di alzio ferrito di questa partecipazione di catanesi ma non partecipazione di lettera materiale ma partecipazione del ruolo di chiedo scusa dovremmo fermarci un attimo è stata una pochina ma le ultime allora per quanto due minuti va bene allora sospendiamo un attimo c'è un problema tecnico nella cabina di registrazione più di qualche minuto quindi non conviene neppure allontanarsi di attimo di Grazie a tutti